Il Frosinone archivia il 2017 con tre preziosi punti. La squadra canarina torna dalla trasferta puiese con una vittoria di rimonta sul Foggia. Formazione titolare rimane invariata. Mister Longo ha ormai scelto da tempo il suo undici ideale. Brienti, Terranova e Dariaudo dinanzi a Bardi. Maiello e Gori in mediana. Sulle corsie Crivello e Matteo Ciofani. Ciano a supporto di Dionisi e Daniel Ciofani. Nel corso della prima frazione le contendenti non si scoprono. Inquilibrio fino al quarantesimo quando il Foggia sblocca il risultato. Bardi si ripete alla grande sul destro di Beretta. La sortita però continua con l'assist di Floriano per il numero 9 rosso-nero che questa volta è in sacro. Cari amici, ben trovati al nostro consueto appuntamento settimanale. In questa occasione prendo in esame il materiale che mi ha mandato Alessandro Iacobelli. Si tratta di un servizio chiuso relativo a una partita del campionato di Serie B tra Foggia e Frosinone. Allora, caro Alessandro, il servizio è ben confezionato dal punto di vista giornalistico, ben letto. Solo ti consiglio un po' più di verve e anche qualche termine un pochettino più nuovo, meno arcaico se vogliamo in alcune circostanze, anche perché essendo scritto hai tutto il tempo per trovare le parole migliori da questo punto di vista. So che ti sei occupato non solo del servizio e quindi del testo, ma anche del montaggio. Ecco, il montaggio mi è sembrato più lento rispetto al tuo speakeraggio. Quindi anche in questo caso i tagli devono essere un pochettino più veloci, in sintonia con quello che tu stai raccontando. Comunque nel complesso direi molto bene, continua così, stai attento ai vocaboli e anche un po' al tono della voce. Questo è il consiglio che ho dato ad Alessandro, ma che vale per tutti quanti voi, ai quali rinnovo l'invito a mandare il materiale a massimocaputichioccioladmtc.it e come vedete cerco di accontentare un po' tutti. E poi continuate a seguirmi perché tra un po' avremo delle interessanti novità. Alla prossima! Alla prossima!